Il TG-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Super Otto Show Super Otto Show News In questa ferma immagine c'è tutto il dramma vissuto da Sminestrina, il demone numero 5 di Arezzo. Guardate come si allunga per dare la mano a Papa Francesco, che ovviamente era anche molto distante e non poteva dargliela. E fra l'altro lui doveva stare a quello che è il protocollo. Il protocollo passa, il Papa saluta al Vescovo perché è il personaggio più importante della chiesa di Arezzo. Poi passa al sindaco, però Sminestrina come vedete non ce la fa, non ce la fa. Allunga il braccio, lo tira, la faccia costretta, ci è rimasto molto male, non sa che fare. Tutti applaudono e cominciò a applaudire anche lui. Ecco, questo è il dramma di Sminestrina. Il TG-8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Super Otto Show News